Siamo allo zoo, una mattina arriva il direttore e si accorge che è scappato il canguro, cominciano a correre il presso per tutta la città e dopo circa tre ore riescano a catturarlo, o riportano un gabbia e decidono di arciarla staccionata da due a tre metri. La mattina dopo puntualmente, boom, il canguro sta un'altra volta a giro per la città, avrà il direttore che fa un'altra volta tre ore per riacchiapparlo, loro riacchiappano, rimettono la gabbia e arsano la staccionata da tre a quattro metri. Quando il giorno dopo gli scappa l'ennesima volta, o ricatturano, lo rimettono lì e portano la staccionata a sette metri, la cosa staccionata. Mo c'è il gorilla dentro la gabbia, ho visto tutta sta confusione, a un certo punto vede il canguro e gli fa, vi ha un po' qua, e il canguro tan 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 zompa là davanti, e il gorilla gli fa, ma senti po', ma quanto cazzo d'alto un'altra staccionata per non fatti scappare, e il canguro gli fa, per me la può andarsare quanto gli pare si continuano a lasciare il calcino all'aperto.